Un clan della Camorra voleva impossessarsi del piccolo comune di Siano, cittadina della provincia di Salerno che conta 10.000 abitanti. La Cosca voleva mettere le mani sull'amministrazione locale per gestire direttamente o indirettamente tutte le attività economiche, imprenditoriali, gli appalti e i servizi pubblici. 16 gli attentati dinamitardi a scopo intimidatorio e distorsivi compiuti per poter imporre il controllo sull'amministrazione comunale, ricostruiti dai carabinieri, che in base a un'inchiesta della direzione distrettuale antimafia e su disposizione del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno, all'alba di questa mattina hanno arrestato per associazione mafiosa 11 persone. Gli arresti sono stati effettuati tra Napoli, Avellino, Palermo, Novara, Rimini e Pesaro. Condizionare la vita del Comune di Siano sostituendosi ai precedenti controlli esercitati dal clan Graziano che è stato scompaginato e quindi proponendosi con un metodo mafioso in modo eclatante come i nuovi detentori del controllo camorristico del territorio. Un intervento che si è non concluso perché l'indagine va avanti ma che ha avuto una tappa importante nella emissione di queste misure cautelari che ha consentito grazie alla tempestività anche degli interventi dei carabinieri sul territorio di bloccare queste attività.